Oggi parliamo di tolleranze. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni su questo prodotto, il cilindro dell'SH 125-150. Questa è una breve pillola per approfondire appunto l'argomento. Esatto, la difficoltà riscontrata è quella dell'inserimento del pistone all'interno del cilindro una volta inserite le fasce elastiche. Possiamo dirvi due cose, la prima è di seguire le istruzioni di corretto montaggio che trovate all'interno della confezione e la seconda è che le tolleranze di questo prodotto sono giuste, sono giuste, sono giuste. Quindi è un prodotto conforme e pronto a essere montato. Aggiungerei il fatto che Evoque per realizzare questo cilindro ha rispettato un range di tolleranze davvero ristretto per garantire un prodotto di qualità e duratura nel tempo. Come consiglio in caso di difficoltà è quello di utilizzo di un montafasce. Un montafasce che può essere generico o in particolare utilizzando questo della Bike Service, un'azienda produttrice di attrezzatura per il mondo due ruote, di cui noi siamo distributori unici per l'Italia. Se avete altri dubbi, perplessità o domande non esitate a contattarci. Oppure commentate tutti i nostri video. Ciao! Alla prossima!